Noleggiavano auto per andare a rubare nelle case e in particolare in quelle degli anziani, nelle quali facevano irruzione dopo un'attenta osservazione dall'esterno. Due albanesi di 20 e 34 anni sono accusati di aver organizzato le razzie nel quartiere di Rosciano nello scorso mese di settembre. Nello specifico, la volante del commissariato di Fano era intervenuta a seguito della segnalazione di un residente che aveva notato due individui scendere da un'autovettura e al tramonto scavalcare la recensione di una casa. Grazie all'intervento tempestivo degli agenti diretti da Stefano Seretti, i malviventi si sono andati alla fuga, ma mentre un poliziotto era rimasto a sorvegliare il veicolo utilizzato dai malintenzionati, l'altro aveva iniziato a inseguirli a piedi. Nella corsa, l'agente era riuscito a vedere con precisione le fattezze di uno dei fuggiaschi. Dettagli utili ai fini investigativi, anche se entrambi erano riusciti a far perdere le loro tracce nei campi della periferia fanese. Le successive indagini hanno poi portato all'identificazione degli albanesi irregolari sul territorio nazionale senza fissa dimora, ma gravitanti su Fano, rintracciati nel Mantovano con la collaborazione della questura locale, sono stati condotti nel carcere di Villa Fastigi in attesa di giudizio.